C'è un cappello C'è un cappello Ma sono anche crediti? Attualmente no, il prossimo anno No, il prossimo anno Le danni hanno bisogno di 350 miliardi di euro Sono proprio Adesso credo dal prossimo anno E vengono 12 miliardi Questa la conosce Velen? De chi? Velen è un giustario americano Per un po' della chitarra in alluminio Sul ciclo di Venervi da me Ma viste qui Ha preso le foto e ha detto Le metto sul mio sito Se non ti sta bene Dilla alla voca A me non mi interessa Mi sono piaciuto No, anche noi Lui a fa chitarre quel claptor Lui in Venervi E' una potenza Se sta bene Insomma La mia... No, non mi interessa Si... Ah! Sì...